Musica Chiediamo di capire, conoscere i tempi e i modi per la riapertura del Palavolcano di Acireale. L'aggiornamento sul Palavolcano è il fatto di aver aggiudicato una gara per la gestione in via provvisoria. Chiaramente per aggiudicarla in maniera definitiva e che aspettiamo dei documenti che ci devono arrivare dal Tribunale di Catania, dall'Agenzia delle Entrate, per i requisiti dell'Associazione GIS che si è aggiudicata la gara. Nel frattempo noi come amministrazione abbiamo rimesso tutto in funzione al 100%, abbiamo verificato l'impianto antincendio, abbiamo fatto la verifica periodica degli estintori, quindi questi piccoli lavori preparatori per la riapertura sono già stati ultimati la settimana scorsa. E' chiaro che a questo punto la cosiddetta burocrazia non è una burocrazia che dipende dal Comune, però è purtroppo una prassi da seguire quando si aggiudicano delle gare. Quindi attendiamo fiduciosi e siamo lì sul pezzo, nel momento in cui arriveranno questi due documenti saremo lì pronti ad aggiudicare la gara e a consegnare il palazzetto. Quindi i lavori che chiedeva la GIS sono stati espletati? Sì, io non li considero dei veri e propri lavori perché si trattava semplicemente di verificare gli estintori che chiaramente ogni sei mesi vanno verificati. C'era un pezzo di intonaco in una scala di emergenza che andava ripristinato ed eliminato e diciamo in funzione di questo abbiamo approfittato anche per fare una nuova verifica all'impianto antincendio e rimetterlo in funzione, rimetterlo a pressione ed è tutto a posto. Quindi inoltre a questo aggiungo che è in corso la catastazione dell'immobile e quindi questa è una cosa da sottolineare perché l'immobile non era mai stato catastato e quindi ci siamo dovuti sobbarcare anche l'onere di affidare un incarico attraverso una gara per completare queste pratiche al catasto. Una volta ultimato questo noi come amministrazione avremo nelle mani una struttura che è davvero al 100% anche sotto l'aspetto burocratico e quindi avrà anche la sua formalità per quanto riguarda tutti i discorsi di agibilità che sono stati fatti in questi mesi. E quindi oltre ad avere tutti i requisiti che già ha e che aveva prima abbiamo aggiunto finalmente il collaudo della caldaia e con la catastazione completeremo il tutto avendo a tutti gli effetti una agibilità formale che comunque già c'era nello stato di fatto delle cose. L'ultimissima in estrema sintesi ci sarà un'assicurazione a copertura di eventuali eventi calamitosi o cose di questo genere? Allora un'assicurazione del genere noi contiamo di farla e probabilmente la produrrà la società che gestisce l'immobile e quindi possibilmente sarà il GIS che produrrà questa assicurazione. Adesso vediamo un attimino con le assicurazioni come diciamo affrontare questa questione però è chiaro che ciò che è successo diciamo con la tromba d'aria del novembre 2014 e che invece aveva la copertura ad esempio il teatro Maugieri era coperto a un'assicurazione per calamità naturali ci darà la possibilità o comunque dobbiamo assolutamente farlo perché ci in un certo senso proteggerà in futuro da eventuali danni che potrebbero accadere speriamo mai più perché sarebbe davvero un danno irreparabile.